Adonic 7 e lo so, lo so, lo so quello che molti di voi penseranno che forse meritava anche il 7 e mezzo perché entra sotto forma di assist nel gol del vantaggio del Torino perché fa una cosa fantastica in occasione del gol del 2 a 0 ispirando l'azione, il tacco poi a raccogliere l'assist di Voivoda però sbaglia anche delle cose e 7 secondo me è il voto corretto di una partita nella quale però conferma di avere una qualità e una velocità di pensiero non soltanto di movimento superiore a tutti gli altri. Un'ottima partita la sua.